Bug assurdo su Squadbusters, praticamente tutti hanno ricevuto l'emoticon della pre-registrazione Parliamone subito, allora oggi, oggi, 7 giugno, tu entrivi dentro Squadbusters E andando nello shop trovavi l'offerta gratuita del King, per chi aveva iOS L'offerta gratuita del personaggino di Android, per chi ha Android Però questa cosa raga è stata un po' strana, perché? Perché raga, molte persone hanno ricevuto queste emote pur non essendosi pre-registrati E quindi tutti quanti, quelli che hanno trovato all'interno dello shop E praticamente chiunque sia entrato nello shop, in quel momento, e mi sembra pure adesso Troverà l'emoticon della pre-registrazione per il dispositivo che ha Quindi se voi avete iOS, all'interno di Squadbusters, al 99,9% nello shop Dovreste poter trovare l'emoticon del King Pur non essendovi pre-registrati, che è una cosa che non ha totalmente senso Però vabbè, eppure quelli di Android, anche se non vi siete pre-registrati Se entrate dentro Squadbusters, dovreste avere l'emoticon Perché questa cosa ragazzi? A quanto ho capito, Supercell ha avuto un po' di problemi a dare l'emoticon Infatti raga, non ce l'avevo quest'emoticon, me l'avevano scammata E come hanno risolto? Hanno risolto dando l'emoticon a tutti Perché a quanto ho capito, non riuscivano a distinguere Chi avesse fatto la pre-registrazione e chi non l'aveva fatta E quindi per accontentare un po' tutti, hanno dato l'emoticon a tutti Che mi sembra una cosa molto buona, perché comunque ci sta E l'offertina ragazzi, dopo sto game la andiamo subito a rivedere Vi faccio vedere pure il momento in cui l'ho riscattata Però dovrebbe essere disponibile per tutti Quindi io avendo un secondo dispositivo Android Domani scaricherò Squadbusters nel mio vecchio dispositivo Android E andrò a vedere se mi danno anche lì il personaggino di Android Ma a quanto ho capito raga, tutti quanti Mi avete scritto alcuni nei commenti pure Avete ricevuto tutti l'emoticon della pre-registrazione Pur non essendovi registrati Questo è una cosa assurda Per questo vi dico, veloci ragazzi Veloci, se non vi eravate pre-registrati ora Entrate su Squadbusters, prendetevi l'emoticon E state in silenzio, non fate niente, non dite niente Prendete, ve la fate un po' di... Un buggettino d'attico ragazzi Che forse, che secondo me non è un bug È una cosa che ha fatto apposta Supercell Perché non sapeva come distinguere Chi aveva fatto la pre-registrazione e chi no Quindi io vi consiglio Scaricate il gioco Fatelo scaricare a tutti i vostri amici Vi lascio il link in descrizione per scaricarlo ovviamente Consiglio d'attico raga Entrate, prendetevi questa emotina gratis Che secondo me tra qualche anno Sarà una delle emoticon più rare del gioco E sono le emoticon della pre-registrazione Raga, immaginatevi, c'è avere il personaggino d'Android E avere il king di Clash Royale Solo per quelli che avevano iOS Assurdo, magnifico Veramente, veramente bello Prendiamoci qua la chiave Andiamo di tank Ok, siamo quinti ragazzi Abbiamo fatto la missione di abidità Ci sta Ditemi nei commenti ragazzi Se a voi hanno dato già L'emoticon della pre-registrazione Quando è uscito in modo globale il gioco Come doveva essere Ok, ecco Quello che doveva succedere un po' a tutti O se non ve l'hanno data Aviamo uno scammato come è successo a me E se l'avete potuta prendere solamente oggi Con questo bug, diciamo Questa cosa che ha fatto Supercell Allora, questa mappa è un po' complessa Beh ragazzi, siamo top 5 su top 5 Potrei pure uccidermi Tanto la win ce l'abbiamo Tocca solo sperare di avanzare un po' Però siamo messi malissimo di gemme Questa è una delle modalità più complesse Ve lo giuro Perché la safe si chiude velocissimo E non hai il tempo di farmare in endgame E quindi puoi o solo foetare O girare qua in giro tra le casse Fa cose strane Andiamo di domatore Un bello sprinter ci serviva per forza Là al centro c'è un gran cavaliere Ragazzi, molto selvaggio Se killiamo tutti Là c'è pure uno I'm nova che si chiama Aspè che lo killano Siamo in un bel vantaggio Possiamo star facendo un recupero Sì ragazzi, se killiamo questo Arriviamo in top Se killiamo questo Arriviamo in top No, per pochissimo no Però ecco, mi hanno killato No, non ci credo ragazzi Allora, siamo in 4 Top 4 intanto sono l'ultimo Ragazzi, no, che nabbo questo Vediamo se riesco a killar qualcuno Tanto Quarto ormai ci sono No, non riesco a fare niente ragazzi Vediamo se c'è qualcuno qua Dai, fai da difetto fra di voi Ragazzi, tanto siamo top 4 Ti prendo sto golem di lisiero e via La tento con i bot Ragazzi, la tento con i bot Un po' di gem Terzi Ti prego, ti prego, ti prego Terzi godo Terzi godo Andiamo di un altro pollastrello Ce ne scappiamo in giro per la mappa Vediamo se troviamo altri bot Per farci un recupero assicurato Andiamo di king No, no Là c'era un bro rischioso Siamo in 4 Quindi sono arrivato terzo Potrebbe essere un ottimo risultato finale Perfetto ragazzi Vi ricordo codice kiri nello shop Per diventare dei pro in automatico Ragazzi, è tipo un trick assurdo Vi aspetto pure ogni serie live su twitch Kiri tattino basso live Wistrick 24 Andiamo bene, andiamo bene Top 3 Vediamo cosa troviamo nella cassa Raro grandissimo Ti prego, dammi qualcosa di bello con te Nudistico 9 tank Questo mi fa godere davvero un sacco Perché tra poco Ci portiamo anche il tank a super Ci mancano solo due upgrade di classic Per poi portarlo a super Mamma mia ragazzi Oh, kiri il problema più forte d'Italia E siamo soprattutto Raga, soprattutto Ora vi faccio vedere Rischettiamoci un po' di missioni Qua, perfetto Livello 89 di 90 Domani ragazzi Domani o dopodomani Comunque Nei prossimi giorni Livello 90 di squadbusters Arriverò nella classifica E piccolo annuncio Carissimo Greg Stai in silenzio Che ti raggiungo subito No, non credo sia possibile Però ecco Noi ci proviamo Ok, noi cerchiamo di fare un bel tryharding potente Quanti sono al momento ragazzi? Oddio, pensavo di meno No, no, niente Ma quanti? Ma prima due giorni fa erano 50 Eh, ecco un po' la gente ha tryhardato Forse la gente ha tryhardato un pochino Ma c'è Gigi Ma pure Gigi Non ci credo No ragazzi, no Mi hanno superato tutti Non va affatto bene ragazzi Non va affatto bene Vediamo chi altro c'è Eh, potevo fare un attimo meglio ragazzi Ho giocato troppo poco evidentemente Ma dov'è Sparks? Quarantottesimo Ma non lo recupererò mai nella vita 1300 win Infattibile raga Infa, vabbè Vabbè Mmm Fai ma vedere C'è la pignatta ragazzi C'è la pignatta Questo è il mio codice pignatta Mi raccomando un bel like Un bel like se volete entrare nella mia pignatta Questo è il codice Tanti begli spam Però voglio solo pro player Raga, solo pro player Solo pro gente tryhardina Mi raccomando C'è questa offerta raga Ce la riscattiamocela Riscattiamocelo comune Comune, 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 comune Grande Adesso andiamo a vedere Le emoticon Che ho riscattato Va bene 5 Greg va più che bene Poi la shoppo con l'offerta Ovviamente Shoppatela raga Questa offerta è fortissima La andrò a shoppare Per arrivare a livello 90 Subito E ci faccio un bel video Nei prossimi giorni Questa qui è fondamentale Ecco Appariva così nello shop Lasciate stare che la La foto è un po' strecciata Questo è il problema di iOS Che mi streccia le foto Però 22 giorni Ripeto Entro fine mese Poi queste qua diventeranno Le emoticon più rare del gioco Riscattatevi queste emoticon Sia da Android Che da iOS Se avete dispositivi iOS e Android Prendetela subito Ma soprattutto Prendetevi pure la building Quella lì Che è posizionata nella piazza Mi raccomando Vi faccio vedere Ecco Ok Qua l'ho riscattata È bellissima Molto bella Davvero davvero figa Ecco qua il video Di io che riscatto Reazione Regalo del lancio globale Della pre-registrazione Epica Ed è molto bella ragazzi Molto bella Se siete fan di Clash Royale Da avere Per forza Per forza E quindi ecco La vado pure a posizionare Molto carina Sto cercando di collezionare Tutte le emoticon Però infattibile Dovrebbero mettere nello shop La possibilità di shoppare Gli unboxini Delle emoticon Che secondo me ci sta E sì Molto bella Molto bella Eccoci qua in lobby Come vedete Se vado a quadrare le emoticon Ce l'abbiamo Le emoticon del king Che tira i pollicioni E la primiamo adesso Pure in game Però prima di farci una partita Andiamo a vedere un attimo Il king che ho riscattato tra poco E vediamo se posso fare Nel campo di prova Le emoticon Esatto Sì le posso fare Quindi vediamole da qua Raga Vediamole da qua Emoticon E con la quale emoticon del king Molto caruccia Molto bella Ma poi chi è che usa l'emoticon in game Raga L'unico emoticon che vi consiglio Realmente da utilizzare Durante le partite Della bandiera bianca Che si utilizza In modo qualcuno Ti insegue L'unico modo per Sopravvivere E scappare Ovviamente Però fare pure la bandiera bianca Che tipo Ti prego lasciami vivere O viva la pace Ti prego Abbi pietà di me Vi assicuro che molti Vi continuano a seguire Anzi Inferiscono Fanno ancora peggio Rispetto prima Però ecco Ci avete almeno provato Andiamo in un altro bk Però bella Forse è una delle emoticon più belle Sì sì Ci sta dai pollicioni in su Anche se secondo me Quella dell'android È un pochino più Più VIP Da quell'aria un pochino più rara Perché asso È l'unica Che è esterna Squadbusters Cioè c'è il personaggino Dell'android Tutto verde Che sembra un goblin Carina Una bella Una bella cosa da avere Molto rara Molto impressionante Da avere Secondo me ci sta Carina che mi piace È che l'emoticon si può soffrire Nei parti Però una cosa che dovrebbero aggiungere Per forza È la possibilità di scrivere Che non è che io posso Comunicare come nel 1300 Tramite telegrammi Evviva Wow Ops Un momento Cioè dammi il tempo Ti prego Fammi scrivere due messaggi Però devo andare Cioè so parlare italiano Fortunatamente Cioè diciamo che so parlare italiano Però ci sta Visto che siamo in tema di emoticon E direi che mi sembra il caso Di rimanerci Un'altra cosa interessante Che ho visto È che c'è un emoticon Dedicato a The Rock Ragazzi C'è un emoticon Dedicato alla roccia Non so se vi siete accorti Però sì C'è l'emoticon dedicato alla roccia Che alza il sopracciglio È palesemente lui Una dedicata al covid Assurdo Squadbusters Fantastico I emoticon sono davvero belle Ho livello 100 ragazzi L'ultimo emoticon del gioco Io sto aspettando di arrivarci Adesso sto curioso di una cosa Ma Gregone nazionale Che adesso in game Mamma mia quanto gioca Greg Livello 100 c'è È a livello 100 ragazzi Ha l'emoticon più rara del gioco Cioè L'emoticon più scioppona del gioco Non per forza scioppone Devi aver giocato tanto Vediamo se Nemos ce l'ha Nemos non ce l'ha Allora no Non è scioppona come emoticon È un emoticon Tra giardina Ok va bene Detto ciò ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Un bel like Iscrizione e campanile Guardate i video che sono appena avversi Qua accanto Che sono più quello dell'altro Fate l'abbonamento su portarmi E noi ci vediamo in un prossimo video Di squadbusters Ciao ciao